È stato un gioco difficile, ovviamente vogliamo finirlo oggi. Milan ha giocato bene, i loro giocatori sono grandi, hanno avuto alcuni giocatori, hanno fatto alcuni giocatori, abbiamo potuto battere, ma è venuto un po' più corto. Ora è il gioco 7, abbiamo dovuto essere pronti per combattere. Sì, è stata una partita dura, ovviamente avevamo vederla stasera, però loro hanno messo dei tiri veramente importanti, tutti quanti hanno fatto loro contributi, loro siamo stati bravi ad entrare in partita, ma al fine non è stato sufficiente, quindi lavoriamo in vista di gara 7. Giuseppe, Milan ha avuto una grande reazione dopo l'A5, potete garantire a tutti che il tuo spirito sia qualcosa di simile? Sì, ovviamente non siamo felici adesso, ma è una serie di 7. Abbiamo ancora una possibilità di venire e vincere la championship. Sì, sono sicuro che sarà tuffo per tutti questa notte, ovviamente, perdere al buzzer non si sente bene, ma ancora vogliamo vincere la championship. Siamo ancora credo che lo rispondiamo e siamo venuti per vincere. Sì, ovviamente in nostra strada non siamo assolutamente contenti del risultato, vorremmo appunto vedere scelterla qui, però ecco perché abbiamo 7 partite da giocare, la media delle 7, perché bisogna impostare alla fine che è più forte, quindi sicuramente vogliamo andare là, abbiamo ancora un'occasione per lì c'è il campionato e quello che vogliamo. Hai parlato con l'altro qualcosa in la locker room? Alla parte insieme? Alla parte insieme? Alla parte insieme. Abbiamo avuto difficili parti durante la season, dove ci sono tuffe per noi, non è una differenza, è una tuffe perdita, dobbiamo rispondere. Questo team è stato bene a rispondere, dopo che cose si sembra male. Quindi adesso, se cose si sembra male, siamo pronti per rispondere e cercare di vincere il gioco. Sì, ci sono detto di rimanere mesi, questo non è una cosa da fare perché siamo già stati, con momenti difficili durante la stagione, abbiamo sempre reagito, quindi quello che dobbiamo fare adesso è reagire. Abbiamo ancora un'opportunità e vogliamo stare insieme e cercare di portare la squadra a vittoria. Abbiamo ancora un'opportunità con la squadra a vittoria. Sì, ovviamente, noi non abbiamo sempre perdito, la nostra sera magari in difesa o anche ricevendo il passo, non abbiamo dato il nostro bene, quindi vogliamo raggiungere e rimanere un po' questi eroi che è un'opportunità, perché quello che sappiamo fare, noi abbiamo sempre dimostrato e vogliamo provare a fare pure. e vediamo.